Ragazzi oggi vi faccio vedere come usare questo programma che è Actual Spy Con Actual Spy cosa si fa? Actual Spy è un programmino che registra tutto quello che viene scritto sulla tastiera E per esempio se un vostro compagno accede a Facebook con il suo account Voi potrete scoprire la sua password Proviamolo Apriamolo Fate ok qua perchè è la versione di prova E fate Start Morning Nel questo momento tutto quello che verrà scritto sulla tastiera comparirà qui In questa scritta Ora noi facciamo Hide per nasconderlo e non fare vedere che il programma è aperto Infatti non esce nella barra delle applicazioni E proviamo ad andare sopra a Facebook Proviamo a mettere dei dati casuali Per esempio Ciao a tutti Chiocciola Ciao a tutti E una password pure casuale Per esempio Io sono No Un Hacker Ok dopo lui fa accede normalmente Dopo che lui sarà uscito Poi basta che riaprite Actual Spy E qua cosa ci sarà scritto? Ci sarà scritto quello che lui ha scritto Per esempio Infatti qua c'è scritto Ciao a tutti Dopo i bottoni che ha cliccato Per esempio Citrerelle E altre per fare la chiocciola Yahoo.it E dopo La password che lui ha scritto Sono Un Hacker Se non volete vedere i tasti che ha cliccato Ma solo le lettere che ha scritto Potete fare Show Only Character E vi ha eliminato i tasti E vedete solo la password che ha messo Dopo potete fare Stop Morning E ritornare a fare quello che volete Bene Ci vediamo La prossima volta